Per evitare la contaminazione alimentare quando si viaggia all'estero basta seguire alcune semplici regole. La prima è quella di informarsi correttamente sul paese a metà del viaggio per capire se ci sono delle situazioni sanitarie particolari. Poi bisogna bere solo acqua in bottiglia e controllare che sia chiusa. Non si deve utilizzare ghiaccio, si deve sempre sbucciare la frutta e la verdura prima dell'utilizzo. Si deve assolutamente evitare di consumare cibi crudi quindi solo cibi cotti e poi l'igiene personale quindi per lavarsi le mani prima e dopo il pranzo o la cena e prima e dopo l'utilizzo dei servizi igienici. Allo stesso modo magari evitare di prendere cibi e alimenti dai venditori ambulanti che stavano in strada per i quali la condizione igienica magari non è ottimale.